Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione sempre. E dopo queste vacanze estive ritorniamo qui negli studi di GoTV e qui a GoInfluencer. Io faccio una premessa, questa sarà una puntata molto speciale perché spesso a GoInfluencer ovviamente si parla di quelli che sono i social, di quelli che sono i follower e tutto quello che riguarda appunto il mondo dei siti web, delle pagine Instagram, TikTok e quello che è. Però in realtà questa sera andiamo a trattare dei temi un pochino più profondi e meno superficiali e lo facciamo insieme ad Alessia Conte. Alessia buonasera e benvenuta. Grazie mille a te Francesca di avermi invitato, sono onorata e sono molto contenta di raccontare oggi la mia storia qui con te. Anche io sono contenta di trattare questi temi che non tutti trattano e soprattutto diciamolo non tutti li trattano in televisione. Quindi sono molto contenta che tu sia qui con me questa sera, quindi grazie ancora. Allora raccontiamo la storia di Alessia che in realtà ha un passato diciamo molto particolare nel senso che Alessia prima non si chiamava Alessia ma si chiamava Salvatore. Quindi io vorrei che tu ci raccontassi un pochino quella che è la tua storia e questa decisione così importante che hai preso all'interno della tua vita. Allora Salvatore nasce 29 anni fa nella Napoli, anzi Castella Mare di Stabbia ed è un bambino comunque pieno d'amore con una famiglia accettata, con una famiglia che capisce fin da subito che... Oddio, rivedere queste immagini mi fa un attimo. Ecco infatti no, volevo appunto fermarti un secondo per sottolineare che stiamo vedendo appunto le immagini del tuo passato e ne approfitto anche poi per chiederti che sensazione ti dà vedere queste foto. Beh è una bella sensazione perché alla fine non rinego assolutamente chi ero anche se sono nata in un corpo sbagliato e con l'amore comunque della mia famiglia e... Sì. Ti stai emozionando? Sì un po' sì. Ma io lo sapevo, io lo sapevo, ho detto sicuramente ci saranno delle lacrime in studio. È normale anche perché riguardare delle cose del tuo passato è molto forte no? Da chi ero, a chi sono c'è un percorso estremamente forte, quello sì. Ecco quindi che cosa succede nella tua vita? Tu ti rendi conto di questa cosa e prendi questa scelta. Ma Alessia è sempre nata nel corpo di Salvatore, cioè sempre stata, solo che Salvatore sovrastava Alessia per paura del giudizio, più che altro che io non conoscevo il mondo trans, non sapevo che c'erano ragazze come me nel mondo e allora non sapevo... Guarda ti dico una cosa che veramente lo sanno in pochi e ho piacere di dirtelo. Pensa che, dicevo quando ero piccolina no? Ero in bagno e dicevo quando i miei genitori per non dargli dispiacere non ci saranno più, è una cosa forte, però diventerò Alessia. Perché pensavo di dargli un dispiacere, pensavo di fargli soffrire dichiarandomi mamma, papà non sono più Salvatore ma sono Alessia. Quindi automaticamente pensavo di tradirli. E invece poi sette anni fa lo dissi a mia mamma, a mia sorella e da lì ho preso coraggio e da lì automaticamente... E da lì mia sorella subito mi ha prestato le sue cose e piano piano con giuste sedi eccetera ho iniziato a fare questo mio percorso. Ecco allora, importante questa cosa che tu stai dicendo, ossia il supporto che ti può dare la tua famiglia, che ti possono dare i tuoi amici. Ecco i tuoi amici come l'hanno presa? L'hanno presa allo stesso modo della tua famiglia? Oddio, io non ho amici. Così secchi. Ma molte conoscenze. Ok. Il sostegno, io penso una cosa e voglio mandare un messaggio importante e il messaggio è che la famiglia è importante. Il sostegno che ti dà una madre, un padre, una sorella o per esempio i miei sono divorziati, quindi mio padre non essendoci in casa, non essendo presente, ho avuto molto più sostegno di mia mamma e mia sorella, nonostante mio padre mi abbia accettata, però non esserci in casa non mi ha vissuta in tutto il mio percorso. E quello è l'amore però che ti dà una famiglia, una mamma, un padre, una sorella, non te lo può dare una persona estragna. Perché purtroppo nel mio caso, io parlo di me in questo momento, non parlo in generale, ho avuto molte conoscenze e amicizie comunque di passaggio. Però mi sono sempre fatta non accettare, mi sono presentata per quello che sono e quindi automaticamente penso che nella vita non c'è cosa più bella di essere se stessi. Vero. E c'è da dire una cosa, che molte persone hanno magari proprio questa paura e dicono no, non lo faccio adesso, non lo dico adesso, proprio per appunto paura, perché è una paura di far soffrire le altre persone, di dire o fare qualcosa che magari non si aspettano. Però in realtà bisogna far passare anche questo concetto, ossia che il supporto della famiglia è fondamentale in questi casi. Assolutamente sì. E' la cosa che ti porta veramente poi a dire, forse dovevo anche dirlo prima, giusto Ale? Dipende poi dalla reazione di molti genitori, perché comunque ogni situazione a sé, e parliamoci chiaro... Non è sempre così. Non è sempre così, non è sempre così, nord, sud, comunque ogni reazione è difficile. E' diversa. E' diversa, ogni famiglia la può accettare in un modo, c'è chi metabolizza la cosa con gli anni, c'è, ci sono tante ragazze che non sono accettate, tante ragazze che vengono buttate fuori casa, tante ragazze che comunque si affidano a persone sbagliate, fanno percorsi sbagliati. Quindi ragazze che hanno paura di dirlo, proprio per la reazione non tanto della gente strana, ma la reazione che ci può essere in casa. Sì. E quello fa tanta tanta paura per le ragazze come noi. Ecco, ti faccio una domanda molto schietta, molto sincera. Sì. In tutto questo percorso, tu, al di là ovviamente del supporto della tua famiglia, hai sofferto per qualcosa? Oddio, che domanda, un po'... Un po' schietta. Ho sofferto, devo essere sincera come lo sono. Devi essere sincera. No, no perché ho avuto una mamma, una sorella, amorevoli, ma poi sono sempre stata un po', te la butto sul ridere perché io sono una scherzosa, ma sono sempre stata un po' la checca esterica della situazione. Cioè si vedeva, si vedeva assolutamente, anche mia nonna, mia nonna per proteggermi anche da piccola, la buttava sul ballo perché a me piaceva molto ballare, e allora dicevano guarda che Salvatore è gay, mia nonna no, non lo è, è il ballo. Quindi automaticamente, però tutta la mia famiglia era già consapevole, io mi travestivo con tovaglie, con tende, facevo la sposa, io amo gli abiti da sposa. Quindi automaticamente da piccola era tutto un straversirsi, vestirsi. E hai sempre fatto vedere. Sempre, sempre, sempre ostentato in modo, sì, ammiccante alla mia femminità, quindi chi ero veramente, Alessia. E quindi chi stava al fianco. Non ti rispondo dicendoti non ho sofferto perché è sempre sovrastato Alessia che è Salvatore. Certo. Sempre, anche con la barba che potevo avere, ha sempre sovrastato la mia femminità, pensa che io avevo la barba, il cappello corto e le unghie lunghe. Sempre. E non mi sono mai vergognata per quello che ero. Questo è il messaggio che io vorrei fare. Questo è un messaggio che voglio dire è che se uno, una o una sessualità, tutti abbiamo una sessualità, che sia uomo, donna, gay, ragazza trans, eccetera, bisogna essere se stessi. Non aver paura del giudizio, del pregiudizio. Perché molte volte siamo noi persone che ci giudichiamo e abbiamo paura dopo di essere giudicati. E' proprio una conseguenza del fatto che alla fine in realtà è una nostra paura. Ma poi se non amiamo prima noi stessi non possiamo mai amare il prossimo e non capiremo mai cos'è l'amore. Verissimo. Allora abbiamo tre minuti prima della pubblicità. Io in questi tre minuti vorrei che tu ci raccontassi un pochino quello di cui pochi parlano, ossia com'è il percorso con la cura ormonale. Allora, la cura ormonale, certo, assolutamente. Questo messaggio è una domanda molto intelligente, è una domanda molto importante. Cosa succede? Succede che comunque ci sono associazioni che si chiamano, che è il MIT, io mi sono affidata al MIT a Bologna. Ho fatto un percorso con loro, ho fatto un percorso comunque di psicologo, ho fatto un percorso con l'endocrinologo e dopo lì ci sono gli ormoni, ormoni femminili che abbassano comunque il testosterone e ti inseriscono estrogeni femminili. Quindi sono cure ormonali, sono cure molto pesanti ed è importante dirlo a tutte le persone che non è un gioco, non è un gioco perché comunque sono medicinali, medicinali molto forti. A tutti gli effetti. E dopo all'inizio c'è piano piano... Ma come ti senti proprio fisicamente quando inizi una cura ormonale? Isterica. Isterica. Immaginavo fosse così. Ti senti sterica però nello stesso tempo ti senti donna perché inizi a vedere le prime tettine che crescono, no? Quindi le forme, il sedere un po' più sporgente e lineamenti femminili che poi dopo parliamoci chiaro, ognuno del proprio corpo è libero di fare ciò che vuole, quindi se tu ragazza trans ti senti e ti vedi e ti accetti per la tua cura ormonale, dopo non fai cose chirurgiche, altrimenti dopo puoi andare tranquillamente da medici specializzati di chirurgia estetici e professionisti, soprattutto professionisti e ti ricrei la tua immagine. Perché parliamoci chiaro, anche il bello di essere transessuali, che ti crei la tua immagine come hai sempre voluto. Esatto, come l'hai sempre voluto. Perché ti guardi allo specchio. Io quando mi guardavo anche in queste foto, no? Ora questa era un po' troppo piccola ma ero già cosciente. Come, diciamo, tu già sapevi l'idea, no? La figura che avresti voluto raggiungere. Sì, anche in questa foto io già capivo come volevo essere, poi sono diventata così. Esattamente quello che volevo diventare, guarda che bella. Ma ecco, queste cure quanto durano? Queste cure durano mesi, 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 anzi e poi anni. Che sei isterica. Sì, no, no, al primo mese sì, poi calcola che, se vogliamo buttarla anche sul lato che è la prima settimana, perdi la libido. Ah, ok. Quindi perdi la libido, sessuale, non hai anche più erezione la prima settimana proprio, sì, perché poi si va ad abbassare proprio il testosterone. E poi sono cure che comunque durano per tanti anni, sono sette anni che la faccio. Durano, certo. Durano, all'inizio magari un pochino più forte, no? All'inizio più forte, poi piano piano si va ad abbassare gradualmente con professionisti. Io ci tengo a dirlo perché purtroppo ci sono molte persone che lo fanno clandestinamente e non va assolutamente fatto. Il messaggio che voglio mandare alle persone, fatelo con professionisti, fatelo con persone endocrinologi che vi aiutano, vi sostengono. La cosa più importante per noi ragazzi trans è il sostegno, il sostegno della famiglia e soprattutto di professionisti, medici, endocrinologi, psicologi, psichiatri. Anche perché questo si sta parlando di disformizia del genere. È importante dirlo. Poi dopo possiamo scherzare, possiamo ridere perché siamo persone normali, assolutamente. Non siamo, non voglio neanche, poi personalmente io, non voglio buttarla sul triste o meno perché mangiamo, dormiamo, beviamo, ci divertiamo, abbiamo amici, conoscenti, ci facciamo le vacanze. Tranquillamente e siamo persone normali. Ecco, tra pochissimo parliamo anche di questo tema, molto interessante. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con Alessia Conte. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici. Perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta. Un servizio chiave in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it. La scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metratura a Milano e sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Ekeo Luxury Real Estate al sito www.ekeo.it. Ekeo, professionisti al tuo servizio. Triform, azienda specializzata nella produzione di attrezzature per il fitness dal design unico e inconfondibile. 100% made in Italy. Realizziamo e progettiamo spazi completamente attrezzati con i nostri prodotti. Dal piccolo angolo di casa al megacentro fitness. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Riaccoci nella seconda parte di Go Influencer. Qui con me e Alessia Conte stiamo affrontando dei temi veramente molto interessanti. Ho già detto che io sono veramente contenta che tu sia qui questa sera. Stavi accennando al fatto, ovviamente, sottolineerei, che voi siete persone normalissime. Però allora io ti lancio questa provocazione, perché alla fine è una provocazione, ossia, è vero, voi siete persone normalissime, ma ci sono anche tante manifestazioni riguardo a queste cose. Per esempio, il Gay Pride. Quindi ora ti chiedo che cosa pensi tu di queste manifestazioni. Ma tu queste domande molto a tradimento e cattive non le devi fare. È vero, perché... Cioè, non me le aspettavano assolutamente. Però ti voglio dire una cosa, io le faccio sempre queste domande a tradimento in Go Influencer. Tu non lo sapevi, però adesso lo sai. Infatti... E io voglio sapere tu che cosa pensi di queste cose. Oddio, vuoi che il mondo intorno a noi ci si scateni? Sì, voglio. Voglio che dici veramente quello che ti chiedi. Oddio, non mi piace. Non mi piace perché è qualcosa che andare sinceramente a ostentare, a farmi accettare su un carro, poi ci sta a tutte le manifestazioni che sicuramente sono state fondate per un motivo. Però ti faccio l'esempio. Io e te siamo qui adesso, no? Stiamo dialogando e stiamo raccontando la mia storia in modo normale, civile. da due persone normali, perché io devo andare a farmi accettare su un carro o comunque a farmi una sfilata in tutte le città d'Italia, perché cosa? Come per dimostrare che è normale. Cioè questo è un po' il senso che tu stai dicendo, giusto? Appunto, non è più... Una cosa normale non c'è bisogno di dimostrare che sia normale. Appunto, non è più normale essere qui a chiacchierare o come lo possiamo fare in un studio televisivo come questo, anche in un bar. Certo. Qual è il problema? Perché devo andare. Poi è l'eccessività che a me non piace. Non mi piace il fattore di persone anche mezze nude. Poi per carità ci sono, stanno adesso anche a prendermi foto, ma il mio lavoro, per carità. Certo. Però c'è, sì ok, però andare su un carro, anzi secondo me posso essere sincera, poi posso scatenare bufiere, assolutamente sarò pronta a rispondere a tutti e a confrontarmi con tutti, ma andare su un carro mezza nuda non è peggio? È la domanda che io mi pongo, non è peggio? Poi se ci sarà qualcuno che vuole spiegarmi, io sono qui. Alessia Conte Official, Alessia Conte Official potete spiegare. Perché secondo me è peggio, cioè se buttiamo tutto sulla normalità, perché ci sta, tutti siamo diversi, io e te siamo diverse, perché tu sei bionda, io sono mora, siamo diverse per profumi, ragionamenti, ok? La diversità però attrae, la diversità... Vero, verissimo. E come ti posso dire, spaventa anche, perché il diverso spaventa, però se tu sei intelligente a far capire che io mangio come te, rispiro come te, se dialogo con te, è un confronto intelligente con te, che poi dopo scherziamo, ridiamo, andiamo a bere, è la cosa più bella al mondo. Ma io sono uguale a te, che cos'è che cambia? Non c'è bisogno di fare tutte queste cose. Assolutamente, è quello. Poi, ripeto, non voglio neanche essere ripetitiva, però se c'è qualcuno che mi vuole insegnare a capire meglio, io sono aperta a imparare. Però, personalmente, essendo che tu mi hai fatto questa domanda, non mi troverai mai. Non l'ho mai fatto un gay pride. Sei stata esaustiva. Non l'ho mai fatto e penso che non lo farò mai. Allora, dato che siamo in vena di domande molto spette... Sì, io ti amo sempre di più, però, eh. Non so, e fuori scaletta. Te ne faccio un'altra. Adesso io ti chiedo... Mi fai paura, però, Franci. No, dai, se non vuoi rispondere non rispendo, poi ti la faccio lo stesso. Domanda secca, tu ti opereresti e perché? Oddio, domanda secca, risposta secca, no. No? No, no, perché in questo momento mi accetto per quella che sono, perché mi guardo allo specchio e dico, lo sono, mi accetto. Poi parliamoci chiaro, sono questa, cos'è che cambia? Un organo femminile o un organo maschile? Non ti cambia nulla, perché l'uomo, se ti vuole, intanto ti devi prendere venta al mente, poi alla fine non è che... Si vede qualcosa, Franci, eh? Anche nei camerini, anzi. Cioè, non è che... Ammetto, ammetto. Quindi automaticamente non... È vero, è vero. Non è lo... Scusami se ti ho interrotto. Non è l'organo femminile o maschile, è la sensualità. Io quello che mi batto anche sui miei social e sono onorata di essere qua con te e che mi hai invitata, è la donna. La donna deve essere femminile, come lo sei tu, come accavalli le gambe, come ti poni, come parli, come gesticoli. È la stessa cosa, non voglio essere presuntuosa, lo posso essere io con un accavallamento di gambe. Assolutamente sì. Non conta, poi ci sta, ovvio, come ti può piacere la bionda, la mora o qualsiasi tipo di persona. Però non è un organo che sicuramente ti cambia la vita. Poi sicuramente mi opererò se ne sentirò l'esigenza, ma in questo momento, nel 2021, no. Ok, grazie. Poi al limite se lo farò, verrai con me. Ti rinviterai e ci rinconterai com'è andato il tutto. Allora, abbiamo citato prima i camerini. Ritorno ai camerini perché nei camerini noi ci siamo dette una cosa a cui tu tieni particolarmente, sì, che tu vuoi spiegare, ossia una differenza che molti non conoscono, cioè la differenza tra un trans e una trans. Ce la racconti? Allora, io questa cosa è una cosa che combatto da sette anni, da quando ho iniziato questo percorso. Perché? Perché ogni volta sento anche con i miei colleghi o leggo giornali dove c'è scritto sempre un trans, riferendosi a una ragazza come me. A una ragazza, ok. Voglio specificare che un trans è una donna che diventa uomo. Questo per me è importante dirlo. Una trans, sono io, una trans è un uomo che diventa donna. È in transizione. Perché? Mi combatto su questo perché è fondamentale far passare il messaggio a casa che c'è una netta differenza, anche perché poi molte volte uno vuole dire un trans per dispregiat... Sì, ho capito cosa intendi. Per essere dispregiativo o... Sì, sì, sì. Che poi, a parte che penso che molte ragazze trans con tante sofferenze hanno le spalle così larghe che le offese... No, poi io butto tutto sul ridere. Quindi figurati, io sono una persona estremamente autoironica, autocritica, però rido e scherzo e mi prendo in giro da sola. Quindi figurati se a me mi fanno una battuta o cercano di offendermi. Figurati, io rispondo sempre. Vedi, ho sempre le spalle più larghe perché mi scivola tutto addosso. Perché non voglio assolutamente far soffrire mia mamma e mia sorella. Il resto è dargli sempre orgoglio perché le amo più della mia vita. Il resto, tutto quello che si può dire, non mi interessa poi nella vita che se ne parli o bene o male. L'importante è che se ne parli. Brava, così mi piaci. Allora, sfatiamo un mito. Sì. Ossia, un'altra domanda molto secca. L'uomo che va con una trans, c'è un pochino il mito di questa cosa, cioè l'uomo che va con una trans sia in realtà omosessuale. Però ti voglio fare una domanda a te invece. Omosessuale, già la parola, omosessuale. Uomo rimane uomo, è attratto dallo stesso sesso. Quindi automaticamente, se riflettiamo con intelligenza, cosa c'è? Ti dà già la risposta all'omosessualità, ovvero è attratto dallo stesso uomo. Non andrebbe mai un uomo con un altro uomo, con una ragazza trans, scusa. Quindi, il gay? No. Poi, a letto, non ci sono ruoli, penso. E poi sfatiamo anche poi il mito del fattore... Brava, devi discutere tutti i miti. Sì, sfatiamo il mito comunque del fattore che uno può essere gay, può essere bisex, può essere... No, perché molte volte io per le esperienze che ho avuto, molti miei ex fidanzati, tutti eterosessuali, con la loro prima esperienza, con una ragazza trans, ma non vuol dire che giocavano, detta come va detta, con il mio organo maschile. Certo, chiarissimo. Sfatiamo questo mito, perché è molto importante dirlo, perché automaticamente ci sono le fisime mentali del ragazzo che può uscire a cena con te, perché... Ah, ma è gay. No, non è gay. Non è una persona... Poi, ragazzi, parliamoci chiaro, c'è sempre un po' di bisessualismo nelle persone, nel senso, i calciatori tra di loro possono guardarsi, possono fare battute negli spogliatoi e dire, oh, cavolo, 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 però, però... Cioè, ci sta... L'occhio cade, come... Ci sta che io posso guardare una donna. Ma il fattore non è... Io odio le etichette, perché non ci sono assolutamente etichette nella vita. Certo, è chiaro. Hai parlato di relazioni passate. Sì, eh. Un'altra domanda, è così, sei fidanzata? Oddio! Qualche chicca delle tue relazioni. Sì, sono fidanzata come stessa. Questa potevo aspettarmela, però, eh. E non c'è cosa più bello di amarsi. Vero. Quindi sono fidanzata come stessa, sono fidanzata con la vita e se arriverà la persona giusta, perché no, non sono aperta assolutamente a frequentare persone di mentalità elevata, mentalità aperta, mentalità dove tu riesci a crescere a pari passo con quell'altra persona. Io ti do una cosa, tu me ne dai un'altra, la mettiamo insieme e si uniscono le nostre forze e l'unione fa la forza. Mi piace il tuo mood, Ale. Hai visto? Mi piace molto. Abbiamo pochissimo tempo, però io volevo commentare un attimino un servizio che tu hai fatto per la TV. Lo commentiamo velocissimo. Sì. Tu appunto hai fatto questo servizio a Milano Marittima e sei andata un pochino in giro a chiedere cosa pensassero le persone di te, sostanzialmente. Ti chiedo brevemente che risposte hai avuto e se ti aspettavi quelle risposte o se secondo te qualcuno ha dato quelle risposte solo perché magari c'era una telecamera. Ma guarda, posso essere sincera? Le reazioni che ho visto facendo quelle domande, ho visto reazioni sincere. Ho visto reazioni sincere, ho visto anche un ragazzo soprattutto che ha detto no. Ma scherzandoci sopra, assolutamente no. Poi l'ho fatta anche a un bagnino, dicendo ma tu hai salvato una ragazza trans, la salveresti e lui, carinissimo, è il mio lavoro. Quindi vedi, la normalità l'ho fatta anche a persone vissute, quindi con anni differenti a quelli che possiamo avere io e te. Certo. Hanno fatto, hanno detto alla... Le hai sentite sinceri, le hai sentite sinceri. Hanno risposto con una sincerità assolutamente estrema. Bene. Quindi ti è piaciuto anche fare questo? Molto, ma è bello, ma parliamoci chiaro, ma perché deve essere tutto rose e fiori dicendo oddio sì ci amiamo, ci rispettiamo. Ma parliamoci chiaro. Poi ci sono persone anche che non mi possono accettare, ma per forse perché posso essere antipatica a qualcuno, ma non è tanto il trans, non è tanto il genere sessuale. Sì, è una questione che dite caratteriale. È caratteriale. Può darsi che un giorno ho voglia di essere un po' più altecciosa, cammino, me la tiro, però posso essere un passante antipatica, ma non per quanto trans, è quello che voglio dire. Cioè, noi veniamo etichettati a volte a dire, ah ma questa persona è ignorante perché non ti accetta perché sei trans. No, perché può darsi che in quel momento sono state egocentriche. Sei un pochino nervosa. Brava, sì. Vabbè, è chiaro, assolutamente. Quindi è quello, cioè non è che adesso perché devo portare su il peso di sei trans, allora non sei accettata. No, ma chi se ne frega. E non mi piacciono sinceramente, voglio dirti anche quest'altra cosa, se mi dai un secondo. Vai, vai, vai. Non è neanche il fattore che non mi piace chi reagisce in mal modo dicendo, ah ma cosa guardi, come ti permetti, hai qualcosa da guardare. No, perché una persona ti può guardare per qualsiasi cosa. Ragazzi, è brutto dirlo. Permettimi, a volte ci sono persone che sono ignoranti, come lo posso essere io, lo possiamo essere tutti perché ignoriamo una cosa. È come passa una persona in sedia a rotelle che tu la guardi perché forse non hai mai visto una persona in sedia a rotelle perché vuoi capire. Allora, impariamo a capire una cosa, a non essere anche noi ragazze trans o comunque il genere sessuale, a puntare il dito contro alle altre persone che ci possono guardare dicendo, cavolo, però io non ho mai visto una ragazza trans, cavolo. È un qualcosa di nuovo, è un qualcosa. Allora, dobbiamo essere noi a spiegare con sguardi, con comportamenti, guarda che è una cosa normale. Ci sta. Ma capita anche a me se dovessi guardare una persona con i capelli fluo. Un qualcosa che non hai mai visto, tu dici. La novità, qualcosa di normale, è quando vai in una città, parliamoci chiaro, ti è mai capitato di andare in una città, sicuramente, nuova, che tu per andare a visitare, cosa fai? Ti guardi attorno, la osservi e dici, ah, wow, cavolo, è la stessa cosa può essere di me. È una cosa nuova. Come possono fare di te che sei una bellissima ragazza e dicono, wow, allora tu cosa fai? Ma cosa guardi? Oddio, no, ma benvenga. Ma scusa, guarda che ci scolliamo un po' di più. Ti applauso, veramente. Guarda Ale, io ti assicuro che sarei stata qua un'altra oretta, proprio stessa serena, mi sarebbe passato velocissimo il tempo, purtroppo ci dobbiamo salutare, però io ti rinnovo i miei ringraziamenti per essere stata qui stasera, Alessia Conte su Instagram, Alessia Conte Official. Grazie mille, grazie per aver finalmente, diciamo, dimostrato e fatto vedere nel mondo della televisione queste cose, questi temi così importanti da trasmettere alle persone che ci guardano. Grazie mille a te, French, grazie mille a te della possibilità che mi hai dato, sei una splendida persona e soprattutto sei di mentalità open. Ci ritroveremo magari qui. Quando vuoi. Ti richiamerò e faremo un'altra intervista. Alessia Conte, grazie mille. Grazie mille a te. Grazie anche a tutti voi e buona serata a tutti. Questo programma è offerto da Ninivirta.it La scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy.